Buonasera, benvenuti all'analisi speciale elezioni 2014 e benvenuto a Mauro Pili. Grazie a voi. Mauro Pili, 47 anni, nato a Carboni, è giornalista, si presenta alla guida della coalizione del popolo sardo che è sostenuta da quattro liste, Forza Varis, Soberania, Mauro Pili presidente e Unidos. Allora Pili, la sua coalizione nasce per rompere lo schema canonico destra e sinistra, liberarci dai poteri forti, ma che sono questi poteri forti di cui parla? I poteri forti sono quei soggetti che a livello nazionale governano sostanzialmente i partiti, lo hanno fatto in questi anni, negando la Sardegna quei diritti universali dal trasporto all'energia, dalla capacità di questa terra di essere messa alla pari delle altre regioni italiane ed europee. Io con l'esperienza nazionale, anche dentro un partito nazionale, mi sono reso conto che contano molto di più questi poteri rispetto a qualsiasi rivendicazione corretta di diritti che una terra come la nostra mette avanti. Quindi la necessità di contrapporsi in maniera netta, forte e chiara, di non farlo soltanto in termini di opposizione parlamentare, ma esigeva questa situazione un'azione anche in Sardegna. Il governo regionale, che è stato espressione in questi ultimi dieci anni del centro-sinistra e centro-destra, ha dimostrato di essere appiattito su questi poteri. Su alcune questioni fondamentali, quella dei trasporti, dell'energia, il governo regionale, sia di Solu e di Pigliaru, che di Capellacci, che di Verdini, ha visto la Sardegna soccombere su temi importanti come quello dei trasporti. Il trasporto per la Sardegna evita, evita per i cittadini sardi, evita per chi produce, evita per chi utilizza la connessione tra la Sardegna e il resto d'Europa per connettere non soltanto i passeggeri ma anche le merci. Questo è quello che ha affondato la nostra economia in questi ultimi anni. Certo, cito soltanto il dato del nord Sardegna, oltre i due milioni di passeggeri persi negli ultimi tre anni. Credo che sia il dato emblematico di come i poteri forti hanno deciso di mettere in ginocchio la Sardegna con la negazione di un diritto sacrosanto. Quindi dando un nome e un cognome a questi poteri forti ci faccia due o tre anni. Beh, credo che basterebbe andare a vedere le pagine di Vedrò, che è la fondazione politica del Presidente del Consiglio in Carica, Letta. Se si va all'ultima pagina si leggono i nomi degli sponsor, cioè di coloro che danno i denari, soldi, liquidi alle fondazioni dei partiti e troveremo per esempio come principali sponsor Eni ed Enel o per esempio l'Alitalia o per esempio Mobilines. E se guardassimo intorno a quello che è successo sulla vicenda della Tirrenia, della sua privatizzazione, ci renderemo conto che la Tirrenia è un potere forte che ha visto i napoletani da una parte e dall'altra i liguri coalizzarsi con i partiti nazionali di destra e sinistra per fare delle convenzioni che sono una vera e propria discriminazione nei confronti del popolo sardo. Io ho denunciato in Parlamento quello che stava avvenendo, una vera e propria truffa ai danni dello Stato, perpetrata dallo Stato stesso perché la Tirrenia è stata venduta per 380 milioni di euro e gli danno per 8 anni 72 milioni di euro all'anno, quindi 560 milioni di euro che vengono elargiti a questi privati che gestiscono un servizio di continuità territoriale che è la negazione della continuità territoriale. Lei arriva da una lunga esperienza con Berlusconi, Forza Italia prima, Popolo della Libertà poi, è stato anche Presidente della Regione, ci riprova dopo 10 anni circa, 10 anni di distanza. Che cosa l'ha spinta a uscire dal centro-destra e allo stesso tempo dalla logica, chiamiamola bipolaristica, destra-sinistra? Quali sono le motivazioni? Le motivazioni sono state verificate nel tempo perché io mi sono da sempre battuto perché la politica non guardasse le ideologie. Io ho fatto il mio primo comizio con Berlusconi nel 99 in Piazza Costituzione a Cagliari e ho detto chiedetemi tutto ma non di essere un Presidente di centro-destra o di un altro schieramento, chiedetemi di essere il Presidente dei Sardi, il Presidente che pensa a tutelare tutto questo. Io nella mia esperienza sia per quei pochi 20 mesi al Governo della Regione ho tenuto sempre la schiena dritta rispetto alle questioni fondamentali. Io ho fatto ricorsi alla Corte Costituzionale contro il Governo Berlusconi tre mesi dopo il mio insediamento per contrastare la linea di Tremonti per esempio che voleva svendere il patrimonio immobiliare della Sardegna senza passare attraverso l'articolo 14 dello Statuto che prevedeva appunto il passaggio di quel patrimonio. Ho contrastato le politiche comunitarie messe in campo dall'allora Vice Ministro Miciche, minacciando le dimissioni se non fu stata accolta la linea che io proponevo. Sostanzialmente in questi anni si è percepito che i poteri forti hanno trovato in Regione una classe politica assolutamente incapace di proporre e incapace di difendere la Sardegna. E a Roma la mia battaglia sulle questioni fondamentali non ha trovato nel PDL quel supporto e anzi sono prevasti Verdini, Scaiola, tutti quei personaggi che hanno fatto della politica ragioni di altra natura, affaristiche in molti casi, e hanno trovato la compiacenza del Presidente della Regione Cappellacci col quale tutti sanno che Cappellacci non è stato indicato da Berlusconi. Tutti sanno che fa parte di una combricola che ha indicato, ha imposto lo stesso Berlusconi che più volte mi ha annunciato e dichiarato questo, fatta da Verdini, Carboni, Dell'Utri e quant'altro che hanno scelto l'uomo da poter manovrare così come è stato in tutte le vicende. Quindi io ho rotto perché non sono stato ascoltato sulle questioni di rimenti della Sardegna. Quando ho detto a Berlusconi che il contratto con la Tiregna non andava sottoscritto e l'ho detto in pubblico Parlamento, l'ho detto nelle commissioni parlamentari, guardate che lì dentro c'è scritto che i sardi per due terzi dell'anno pagheranno il 30% in più dei continentali. Questa non è un'azione politica, questa è una discriminazione verso un popolo. E ho detto a Berlusconi che bisogna fermarlo. Hanno prevasto altre logiche, i parlamentari sardi di destra e sinistra hanno votato quelle convenzioni, io sono rimasto solo a votare contro, e a quel punto ho deciso che forse era giusto rompere con quel sistema, continuare a contrapporre in maniera chiara ma anche permettere ai sardi un'alternativa. L'unica alternativa seria che c'è oggi sul tappeto è la nostra, fatta di concretezza, di schiena dritta e testa alta, capaci di mettersi davvero nelle condizioni di rimettere in marcia l'economia della Sardegna, cosa che centrosinistra e centrodestra in quei ultimi dieci anni hanno negato totalmente la Sardegna. Però ci spieghi, il suo può essere definito un movimento con connotazione autonomista-indipendentista o sta comunque dentro la politica, chiamiamola italianista, per usare una parola utilizzata molto dagli indipendentisti? Io ho fatto una scelta radicale, io ho perseguito sin dall'inizio della mia esperienza una linea fortemente autonomista, perché penso che i sardi debbano essere protagonisti nella propria terra, sull'ambiente, sul governo del territorio. Ma non è indipendentista. Arrivo a questo, arrivo a questo. Io penso che oggi il percorso sia quello dell'indipendenza, nel senso che ci sono elementi di discriminazione nei confronti dei sardi che se non vengono ripianati attraverso la Corte di Giustizia europea, perché il primo punto che noi mettiamo sul campo è un grande ricorso alla Corte di Giustizia europea sulle discriminazioni, sul mancato riequilibrio, sul fatto che i sardi debbano essere messi sulla stessa linea di partenza degli altri, non 100 metri indietro su una gara da 100 metri, perché quello che sta avvenendo sui trasporti, sull'energia e che poi sono fattori della produzione fondamentali è proprio questo. Cioè il superamento dell'insularità. Il superamento, il riequilibrio dei divari, la misurazione degli stessi e la conseguente compensazione da parte dello Stato e dell'Europa. Se questo non dovesse essere, io credo che sia naturale che un popolo come il nostro si ribelli di fronte a chi ci ha scaricato, ci sta scaricando. Cito un dato, io ho messo a lavorare la Commissione Infrastrutture della Camera per fare uno studio sui divari del riparto dei fondi infrastrutturali di questi ultimi 20 anni. Il dato è emblematico. Dice per esempio che un cittadino della Calabria ha ottenuto in questi ultimi 20 anni pro capite 23.000 euro di infrastrutture, un cittadino sardo solo 3.400, un calabrese 23.000, un sardo 3.400. Quindi il problema non è che non ci sono i soldi. I soldi ci sono, vengono ripartiti in base a logiche che non appartengono alla democrazia e all'equilibrio e a quella coesione che è scritta nella Costituzione. Quindi c'è una violazione costituzionale. Se lo Stato Patrigno non riesce a riconoscere insieme alla Matrigna e Europa questo divario e non lo compensa, la strada è quella obbligatoriamente di indipendenza per creare un modello che va gestito da persone responsabili concrete che sanno quello che vanno a fare. Oggi la Sardegna è un pullman con un milione e mezzo di abitanti a bordo che sta andando drammaticamente verso il baratro. Non possono essere coloro che l'hanno guidata fino ad oggi puntando il baratro o qualche malcapitata concorrente che con la totale insussistenza dei progetti e dei programmi vorrebbe governare la Sardegna. Quindi punta il dito contro lo Stato Patrigno e l'Europa che anche Capellacci ha definito fatta di lobbisti e di tecnocrati. Su questo avete una linea comune? No, assolutamente no. La differenza è che a me l'Europa non mi ha mai preso in giro e non ho mai giocato con l'Europa. Capellacci sulla zona franca il commissario europeo gli ha detto hai sbagliato destinatario, hai sbagliato mittente, hai sbagliato indirizzo e hai sbagliato procedura. Su tutte le questioni sostanziali Capellacci è andato a Bruxelles, è rientrato facendo conferenze stampa dal tema dell'acqua per arrivare a quello dei trasporti. Io voglio ricordare l'incontro fatto con Almunia sulla flotta Sarda. Capellacci è tornato il giorno dopo, tutto a posto, tutto risolto. Poi in realtà la flotta Sarda è stata affondata lungo il percorso perché non si prende seriamente il rapporto e non si va con cognizione di causa ad affrontare queste tematiche che sono invece fondamentali. L'Europa non ha saputo anche per assenza dello Stato italiano sulle questioni fondamentali dei trasporti. Noi abbiamo avuto lo Stato italiano proiettato non a difendere i diritti dei sardi ma a difendere per esempio i diritti o gli affari degli armatori perché non è stato posto il tema di quei 72 milioni di euro che danno alla Tirrenia che non sono funzionali a far fare un affare a onorato e compagni ma devono essere funzionali ad abbattere i costi per garantire ai sardi e alla Sardegna una connessione territoriale con il resto del paese. Tutto questo non è avvenuto e penso che l'Europa vada contrastata con determinazione perché per esempio sul tema della pesca, sul tema della pesca l'Europa ci impone delle regole che non hanno niente a che fare con la biologia, con quello che succede in Sardegna perché ci sono condizioni completamente diverse. Tutto questo non è stato contrastato né nella conferenza Stato-Regioni e tantomeno a livello comunitario. Quindi c'è una totale sudditanza della classe politica e molto spesso anche incapacità della stessa di controvertire questa imposizione europea che secondo me va contrastata con tutte le forze. Mi pare di capire che lei la flotta sarda non la rifarebbe se dovesse vincere le elezioni. La flotta non è una flotta, è una frottola sarda perché si è dimostrata tale sotto ogni punto di vista. Io impongo agli armatori, se tu vuoi attraccare in Sardegna, se tu vuoi svolgere il servizio di continuità territoriale, le imposizioni, io ti impongo le regole, ti impongo le tariffe, la tariffa massima, ammissibile, ti impongo l'onore del servizio pubblico. L'onore del servizio pubblico è una regola comunitaria che significa che nelle isole tu svolgi quel determinato servizio a condizione che tu abbia il pagamento dei reali fattori di produzione di quel trasporto è più un utile di impresa del 4-8%. Non si viene a lucrare, come è stato fatto, come è stato dimostrato anche dall'autorità garante per la concorrenza, come è avvenuto in Sardegna, a guadagnare sulle spalle della nostra insularità. Tutto questo è stato consentito. Io sono per l'imposizione delle regole e certamente non possiamo pensare che la regione diventa armatore, avviatore, diventa tutto e non sa fare assolutamente niente. Una regione autorevole impone le regole, impone le condizioni, impone le tariffe. Cito un elemento sulle convenzioni della Tirrenia, perché quando io ho posto l'esigenza di scrivere quelle convenzioni in maniera assolutamente diversa, che consentisse intanto di equiparare residenti e non residenti, di abbattere totalmente le tariffe, mettendole in condizioni di essere alla pari del chilometro ferroviario, del costo chilometrico ferroviario che c'è in Italia e in Europa. Ebbene, il ministro di allora mi disse che il presidente della regione, lo disse in pubblica riunione, non aveva mai posto il tema delle convenzioni, delle regole. Aveva posto l'esigenza di nominare pezzi di consiglio di amministrazione. E quindi a Roma il presidente della regione, Capellacci, con tutta la sua banda, è andato a discutere di partite che riguardavano i consigli di amministrazione e non certo quello invece del servizio ai Sardi e alla Sardegna di continuità territoriale. Di trasporti, lei parla molto nel suo programma anche di quelli aerei, tra i cardini, leggo che c'è il sostegno ai voli low cost, lei dice che la Sardegna deve diventare una sorta di piattaforma dei voli low cost nel bacino mediterraneo. Questo sostegno come si realizza nella pratica e in questo scenario che lei disegna? Quale ruolo potrebbe avere una compagnia come Meridiana, che è l'unica ad avere la base in Sardegna, e come deve essere comunque pianificata la continuità territoriale aerea? Abbiamo due fronti. Il primo è quello della continuità territoriale aerea, che è un diritto della Sardegna e dei Sardi di essere connessi con pari condizioni, con pari costi rispetto a quelli della mobilità ferroviaria in Italia e in Europa. E quindi io lì ho proposto già da tempo, ho fatto approvare dalla Camera dei Deputati all'unanimità la mia risoluzione sulla tariffa unica, c'è nessuna differenza tra residente e non residente, stabilendo tariffe che per quanto mi riguarda sono puntuali rispetto al calcolo del costo dell'ora volata, che era l'elemento cardine su cui poi calcolare appunto la tariffa stessa, su cui tutte le compagnie si sono rivoltate perché non potevano fare della Sardegna un bancomat dove guadagnare, magari spendere quello che guadagnavano qui altrove. E ho detto che le tratte della Sardegna dovevano essere 45 euro verso Roma da tutti e tre gli aeroporti della Sardegna e 55 euro verso Milano, facendo la puntuale analisi del costo dell'ora volata e dall'altra ci siamo messi nelle condizioni di dire che le frequenze di questo servizio dovesse essere assolutamente garantito. Questi costi delle tariffe consentono alle compagnie aeree di guadagnare, perché è dimostrato, posso in maniera sintetica rubo un minuto su questa domanda e poi magari lo recupero sull'altra, un costo di ora volata è registrato in tutti gli anali internazionali, va dai 4.900 ai 5.000 euro, ai quali vanno sommati secondo l'Ono del Servizio Pubblico il 4-8%, sommiamo l'8% e siamo intorno ai 5.000-5.500 euro di costo totale dal carburante al costo del personale, al catering, al noleggio, a tutto quello che è l'ammortamento, tutto quello che serve per fare un'ora di volo. Beh, se noi dividiamo quei 5.400 euro per 180 passeggeri di un normalissimo Airbus 320, abbiamo un dato di 30 euro a passeggero. Consideriamo che non c'è mai il pieno secondo le compagnie, consideriamo il 70%, vuol dire che sono 122 posti coperti, significa che hanno un costo ognuno di 43 euro pro capite e qui nasce il costo dei 45 euro. Ma resta per le compagnie aeree il 4-8% che guadagnano su quello, ma resta anche l'altro 30% di guadagno netto se loro riusciranno a riempire quell'aereo. Mi domando perché le compagnie low cost riempiono gli aerei e invece le altre compagnie non fanno niente per attrarre. Le compagnie aeree non sono soltanto uno strumento di collegamento, sono anche uno strumento di attrazione e quindi questo è un tema fondamentale, la tariffa unica non poteva essere limitata come poi ha fatto Capellacci seguendo le indicazioni anche quelle limite o secondo me anche oltre quello del penale perché c'è una mail dell'allora amministratore delegato di Alitalia che dice dovete limitare la tariffa unica soltanto a nove mesi e non a tre mesi, quindi durante una gara d'appalto tu fai un'intromissione a gamba tesa indicando quali sono le soluzioni indicate da un concorrente, roba che in qualsiasi altra parte avrebbe suscitato non solo reazioni ma anche azioni penali. Dall'altra c'è quello delle low cost. Come si sostengono? Con soldi diretti? Che è il piano strategico che io penso che debba essere messo in campo immediatamente per far ripartire la Sardegna in sei mesi. Come? Noi abbiamo inventato nel 2001 con la mia presidenza il contributo co-marketing che significa che si danno alle compagnie aeree low cost, che sia Esigeti, che sia Ryanair, che sia Air Berlin o Volotea o la stessa Meridiana o l'Italia se dovessero scegliere la strada di pianificare come molto spesso gli è stato detto in tutti i consessi compagnie low cost parallele che consentono per esempio di avere 10 euro a passeggero che scende e che atterra in Sardegna. Se io do 10 euro attraverso le società di gestione alle compagnie low cost ho un duplice ritorno. Il primo è che arrivano i passeggeri in Sardegna attraverso una campagna di marketing che viene fatta attraverso le compagnie low cost nelle località prescelte. Quei 10 euro come li recupera la regione? Semplice perché ogni passeggero che atterra in Sardegna spende, secondo tutti i dati stimati dalle università italiane, 4-500 euro che spende in Sardegna. Quindi vuol dire che se ci fosse una ricaduta minima in termini di entrate fiscali, di cosa generano quei 4-500 euro sul piano fiscale, la regione ha speso 10 in cassa 40-50. Il nostro piano provvede di spendere 100 milioni di euro immediatamente per attrarre in Sardegna 3 milioni e mezzo o 4 milioni di passeggeri subito che significa, moltiplicati per 4-5 giorni, tra i 15 e i 20 milioni di presenze. Significa creare condizioni di un vortice positivo e autopropulsivo del sistema economico che va dalla piccola e media impresa turistica, cioè quella sarda, che va ad aiutare gli agriturismi, il bed and breakfast, quelle strutture ricettive in mano a chi in Sardegna governa da sardo questo patrimonio e dall'altra tutto quello che ne è concatenato l'agricoltura, la piccola e media impresa, l'artigianato, il commercio, i servizi, tutto questo con una spesa di 100 milioni che genera per la regione entrate di 400-500 milioni di euro, oltre il prodotto interno lordo che è assolutamente destinato a crescere così come l'occupazione. Basterebbe questa soluzione per far ripartire il governo economico della Sardegna e quell'occupazionario. Prima di andare in pubblicità le chiedo questo, anche nel suo programma ho visto che c'è la zona franca che è diventata di grande attualità nel dibattito politico, perché crede che possa essere così importante nella Sardegna di domani? Ci sono delle differenze rispetto a quello che i movimenti della zona franca propongono? Abbiamo 4 minuti prima del break. Bene, io se la Camera può inquadrarla, questa è la proposta di legge che io ho presentato il 4 gennaio del 2010. Ed è questo un atto parlamentare che quindi attesta una data e attesta all'articolo 5 di questa proposta di legge, lo voglio anch'esso inquadrare perché si smetta come fanno alcuni. All'articolo 5 c'è scritto zona franca integrale. Cioè quando tutti dormivano, quando Cappellacci non sapeva cosa fosse la zona franca e non aveva mai sentito parlare, noi pianificavamo la zona franca in termini di riequilibrio. E questa proposta, che è una proposta organica, che nasce da un piano che io ho messo a punto da Presidente della Regione con Paolo Savona, con i più grandi economisti del mondo sul rilancio della Sardegna, che si chiama PARIS, Piano Attuativo Riequilibrio Insulare della Sardegna. E all'interno di questo riequilibrio tre erano i fattori fondamentali del riequilibrio. Quello infrastrutturale, cioè la connessione interna ed esterna, quello economico, del denaro che ci deve essere dato per riequilibrare appunto questo divario. Terzo fattore, quello fiscale. Questa combinazione di fattori di riequilibrio erano fondamentali e quindi per noi la prima differenza è che la zona franca è un diritto che deve essere riconosciuta a livello nazionale e comunitario perché la coesione, l'unità del sistema paese, del sistema comunitario è fondata sulla coesione e la coesione si persegue con tutti questi tre elementi. Tre elementi che noi abbiamo messo nero su bianco su questa proposta di legge in maniera puntuale. Il secondo elemento è che la stoltezza di fattucchieri e fattucchiere che propongono all'ultimo minuto la zona franca senza avere nessuna cognizione né tecnica né giuridica, è dimostrato che hanno fallito, hanno annunciato il primo gennaio in Sardegna sarà zona franca, tutte balle fatte per imbrogliare i sardi, per creare quella sorta di allarmismo preelettorale che consentisse di imbrogliare i sardi. In realtà io penso che la zona franca abbia, oltre ad essere un diritto, abbia bisogno di una copertura finanziaria e questi signori con una irresponsabilità totale pensano di far pagare la zona franca ai sardi. Se la zona franca ha un mancato gettito per le entrate dello Stato e conseguentemente per la Regione, perché se dice di tagliare l'IVA, l'IVA è sostanzialmente una partita di giro, lo Stato prende 100 e ci restituisce 90. Quindi vuol dire che se io taglio l'IVA mi sto tagliando le risorse che mi servono per pagare la sanità, per pagare la pubblica istruzione, i trasporti e quant'altro, significa che i sardi da una parte possono avere un minimo sgravio, ma dall'altra hanno altre tasse. La realtà è che questa proposta di legge dice che la zona franca la deve pagare lo Stato e l'Europa, cioè quel mancato gettito non devono pagarlo i sardi, ma devono pagarlo l'Europa e lo Stato perché è una compensazione ed è un diritto della Sardegna e dei sardi. Pubblicità, torniamo subito. Eccoci in studio con Mauro Pili. Arriviamo Pili a queste elezioni in una situazione economica, occupazionale, critica, perché la Sardegna sta pagando un prezzo molto alto a questa crisi globale. Non c'è praticamente settore che sia in difficoltà, ma l'emergenza numero uno è evidentemente il lavoro. Quali azioni vi tiene siano necessarie oggi per cercare di far ripartire il mercato del lavoro e frenare questa emorragia di posti di lavoro? Intanto voglio dare un dato. Centrosinistra e centrodestra in questi ultimi dieci anni, con loro e Pigliarù, Cappellacci e Verdini hanno provocato un danno da 80 mila nuovi disoccupati. Io nei miei 20 mesi di governo alla regione, gli indicatori dicevano che la disoccupazione era il 23% ed è arrivata in meno di due anni al 17%. Questo perché, qual era la ricetta di allora? Mettere in cantiere la Sardegna, aprire cantieri su tutti i fronti, fare investimenti infrastrutturali che avessero poi una ricaduta sull'economia. Se uno guarda le infrastrutture di questi ultimi dieci anni, deve individuarne una. Io dico agli elettori della Sardegna, cittadini di Sardegna, qual è l'opera che è stata fatta negli anni di Soru, di Pigliaru o negli anni di Cappellacci e di Verdini? Non ce n'è una. Io so soltanto, e i cittadini di Olbia ne sono buon testimoni, cito per tutti la Sant'Odoro Olbia, che era preclusa da decenni e che io ho voluto mettere in cantiere e realizzare in brevissimo tempo. Cito i 60 chilometri della 131. La Sardegna è divisa in due perché da dieci anni si cerca di fare 23 chilometri di strade appaltate e sono ancora bloccati, cantieri che sono bloccati da 7-8 anni, è la dimostrazione di un'incapacità politica gestionale di un'economia che si è fermata. In qualsiasi economia mondiale, da quella giapponese a quella americana, nei momenti di recessione economica, l'intervento infrastrutturale diventa fondamentale perché ottiene due risultati. Il primo è quello dell'investimento immediato che consente di dare risposte sul piano dell'occupazione, del cantiere, dell'economia che gira, gli investimenti infrastrutturali sono quelli che fungono da moltiplicatore sul piano economico più di qualsiasi altro e dall'altra hai delle risposte e dei risultati in termini di efficienza del territorio perché se tu hai una strada che è realizzata, è più veloce, i trasporti funzionano meglio, c'è la connessione, c'è la capacità di spostamento, di mobilità che in una terra come la nostra è fondamentale. Tutto questo si è bloccato. Io penso che alla azione economica che richiamavo prima, cioè dei 3 milioni e mezzo, 4 milioni di passeggeri che possono già arrivare il primo anno quindi con 20 milioni di presenze nuove in Sardegna che generano occupazione ricaduta sull'agricoltura e su tutto il sistema della piccola e media impresa, dell'artigianato del commercio, vi è appunto questo grande cantiere Sardegna che io penso debba essere immediatamente aperto. E si dirà ma con quali risorse? Le risorse ci sono, basta pensare a tutti i ribassi d'asta che ci sono in Sardegna, di tutte le opere pubbliche che sono state fatte negli anni, ribassi d'asta che sono stati o accantonati o fanno parte di residui passivi o fanno parte di manipolazioni finanziarie per cui colui che fa il ribasso d'asta del 30% per esempio sulla Sassari Olbia, quel ribasso o sparisce nelle casse dello Stato quando erano soldi della Sardegna oppure vengono ridate quelle imprese che si erano proposte di fare quell'opera con il 30% di ribasso e che poi invece la realizzano con un 40-50% di aumento. Tutto questo deve essere impedito. Io penso che occorra mettere in campo la proposta che noi facciamo di un miliardo e sei di investimenti infrastrutturali immediati che possono essere cantierati con i fondi Cipe che ancora non sono stati dati alla Sardegna, 300-400 milioni di euro, con i 600 milioni di euro che sono previsti per le nuove opere infrastrutturali del nuovo settennio dei fondi comunitari, seppur ridottissimi, è tutta quella parte dei ribassi d'asta che in Sardegna esiste e che può consentirci con il metodo che noi mettiamo in campo. Io l'ho detto, cantieri giorno e notte, sette giorni su sette. Ma com'è possibile che in questi 65 pass anni di autonomia soltanto per 20 mesi in Sardegna si sia lavorato giorno e notte, sette giorni su sette? Perché le condotte di connessione tra il Tirso e il Flumendoso e i due più grandi bacini idrografici sono stati realizzati lavorando su tre turni, comprese le domeniche. Per quale motivo non si è più fatto? Io penso che occorra un'azione di efficienza della Sardegna che certamente né Soru con Pigliaru, tantomeno Cappellacci con Verdini o qualche altro ambizioso candidato a scrivere libri possa mettere in campo. Credo che sia questa la strada che noi mettiamo in campo per dare risposte sul piano dell'occupazione in termini immediati, oltre alla ripartenza di alcune attività imprenditoriali, industriali che sono state bloccate proprio perché la Sardegna è stata serva shock di questi sistemi. Proprio qua volevo portarla perché ok le opere pubbliche, le infrastrutture, però c'è da ripartire anche il settore produttivo. Al punto in cui siamo arrivati, lei crede ancora che l'industria di base in Sardegna abbia un futuro oppure bisogna rimodellare completamente il nostro tipo di economia? Quando si parla di industria di base si parla di migliaia di persone che lavorano, di migliaia di famiglie che hanno un reddito attraverso quelle fabbriche, bisogna distinguere. La linea dell'Enel per esempio è quella di dire che in Sardegna le fabbriche non hanno senso e che quindi bisogna chiuderle. L'Enel fa i suoi interessi perché non vuole investire in una terra di un milione e mezzo di abitanti, non vuole metterci nelle condizioni di avere l'energia elettrica al costo delle altre regioni italiane ed europee. Cito soltanto il caso dell'Alcoa di cui tutti parlano malissimo. In realtà se uno si gira intorno a casa nella sua attività vede che l'alluminio è ancora oggi un elemento pregnante. Se io salgo su un aereo mi rendo conto quanto alluminio c'è, se salgo in macchina mi rendo conto di quanto alluminio c'è in macchina perché è un elemento durezza, flessibilità, leggerezza che la tecnologia impone per il risparmio energetico, per il mancato inquinamento, per l'abbattimento delle fonti di inquinamento. Quindi significa aver chiuso quella fabbrica perché l'Enel fa pagare l'energia elettrica il 78% in più di qualsiasi altro contesto italiano ed europeo. E l'Enel che ha comprato l'endesa in Spagna con un esborso di 35 miliardi soldi degli italiani fa pagare quell'energia elettrica a 35 euro megawattora quando invece nel sulci la fa pagare a 130. E come si esce da questa situazione? Si esce con l'imposizione del loro servizio pubblico, con l'imposizione di gare d'appalto, facendo e aprendo la concorrenza e dicendo che in Sardegna si applica il prezzo medioeuropeo come obbligo per una regione insulare. L'Enel lo dice la Commissione europea, non lo dico io, la Commissione europea dice che l'Enel in quanto monopolista insieme a EON della produzione elettrica in Sardegna si permette di avere questi costi soltanto perché non ha concorrenza. Uno Stato che copre l'Enel, che non gli consente, che non la obbliga. Io per esempio ho fatto fare dei contratti bilaterali all'Enel. Nel 2002 i lavoratori della Portovesma SRL, che è una importante industria svizzera della Glencore che ha sede nel sulci si iglesiente, quella fabbrica che produce piombo e zinco, quindi un altro materiale assolutamente importante sul mercato mondiale dei metalli, l'Enel non gli dava il contratto bilaterale. Io ho caricato i lavoratori su un aereo, sono andato dal Ministro e ho detto che volevo il contratto bilaterale, così come capitava in tutte le parti d'Italia ed Europa. L'Enel ha detto di no e io ho detto bene, allora se voi dite di no io vi tolgo tutte le concessioni idroelettriche, cosa che poi ho fatto, e vi impongo per esempio di interrare tutti i cavi dell'alta tensione, perché la Sardegna ha la competenza primaria sulla panoramica, mi disturbano questi cavi sospesi per aria e vi impongo strategie che sicuramente vi costano molto più del contratto bilaterale. In poche ore fu firmato il contratto bilaterale, la realtà è che in questi anni la classe politica sarda con quella nazionale sono stati servi sciocchi dell'Enel e di questi potentati. Però è anche vero che sono rimaste macerie, insomma, su queste industrie pesanti, basta pensare alle aree inquinate che abbiamo un po' dovunque in Sardegna, c'è sempre di conflitto ambiente-lavoro. Io sono dell'avviso infatti che anche su questo tema le bonifiche siano un elemento cardine della classe politica assolutamente appiattita sui poteri forti. L'ENI deve fare in Sardegna oltre 6 miliardi di euro di bonifiche e nessuno gli ha imposto. C'è stato uno sversamento da parte di una nave petroliera sull'Asinara. La regione non si è costituita parte civile, cioè non ha contestato a E.ON quell'inquinamento, non lo ha fatto lo Stato. La regione sull'ENI non ha mai fatto nessuna azione di contrasto reale. Tutto questo perché? Perché non c'è la capacità. Io sono dell'avviso che dobbiamo pianificare il mantenimento di quelle attività che sono non inquinanti, che sono sul piano ambientale compatibili, che sul piano occupazionale hanno delle risposte importanti. Dall'altra però dobbiamo cominciare a costruire il percorso alternativo. La realtà è che qui si vogliono chiudere le fabbriche senza pensare che lì ci sono dei conflitti, senza l'energia a un costo pari ad altre regioni. Non c'è attività produttiva, dalle serre per arrivare all'agroindustria, la trasformazione della tirocase aria. Cioè pensare che si fa lo sviluppo senza avere l'energia a un costo pari ad altre regioni italiane e europee è un suicidio. Quindi io penso che la Sardegna debba da questo punto di vista ribellarsi a questo fronte. L'energia è un elemento cardine per tutte le attività produttive e questo deve essere alla base. Le bonifiche sono una cosa che si può, è un'attività che deve essere messa in campo con la schiena dritta. Purtroppo se si va a vedere chi l'Eni finanzia, le fondazioni dei partiti, io ho toccato con mano quando ho detto guardate che quei 100 milioni di euro che devono essere messi in campo recentemente a luglio dello scorso anno per le bonifiche a Porto Torres, non c'è stata una sola impresa sarda che sia stata invitata. Perché l'Eni predispone una vendor list, in quella vendor list non ci sono imprese sarde perché non avrebbero le caratteristiche. Poi in realtà a fare i lavori di subappalto vengono chiamati con strozzinaggio economico finanziario le imprese sarde. Quindi vi è un'attività della politica che è davvero complice di questo sistema. Cambiamo fronte, su questa campagna elettorale gravano alcuni aspetti, chiamiamoli etici, la questione morale, abbiamo visto che cosa è accaduto e anche i costi della politica. Nel suo programma c'è una proposta particolare, lei dice che non avrà stipendio chi amministra la regione fino a quando non ci saranno risultati, ma quali sono i parametri attraverso i quali li misurate questi risultati? Zero indennità per tutti i presidenti di consiglio della regione, zero indennità per i consigli regionali, zero indennità per gli assessori, sino a quando il parametro dell'occupazione non è in crescita, sino a quando resta meno, il segno meno dell'economia, zero indennità. È una scelta strategica, anche perché noi abbiamo già detto che proponiamo un piano di sei mesi per far ripartire l'economia, quindi misuriamo e vogliamo che la politica venga misurata, così come capita in tutte le aziende. Se un manager non è in grado di far produrre e di far guadagnare la sua azienda, va a casa. Se un allenatore di una squadra di calcio, di serie A o anche di interregionale non ottiene i risultati che la squadra merita, va a casa. Quindi è necessario imporre delle regole, che sono regole drastiche. Noi abbiamo scelto questa soluzione drastica perché non vogliamo che ci sia il ben che minimo dubbio sulla determinazione a raggiungere gli obiettivi, ma vogliamo introdurre elementi di misurazione della politica. Se Soru e Pigliaru con Capellaccio e Verdini hanno fatto in 10 anni 80 mila nuovi disoccupati e se hanno portato in recessione il sistema economico della Sardegna, quali sono i parametri di valutazione? La clientela? Gli affaruncoli che hanno fatto con qualche compagno di scuola? Io penso che sia assolutamente indispensabile mettersi nelle condizioni di reagire. E i sardi devono aprire gli occhi perché le promesse che vengono fatte di assunzioni interinali, in quella ASME, in quell'altra, promettendo tre mesi di lavoro a Tizio, a Caio, vengono moltiplicate, vengono tutti imbrogliati. La realtà è che se non riparte l'economia, se non si passa all'interesse generale della Sardegna, alla ripresa economica del sistema, non ci sarà lavoro per nessuno. E la carestia e il deserto che avanza cancellerà anche quel piccolo giardinetto che ognuno di noi vorrebbe avere per se stesso, dimenticandosi invece l'interesse generale. Non si può dimenticare che in Sardegna abbiamo una settantina di politici, consiglieri regionali, ex consiglieri regionali che sono sotto inchiesta per peculato, diversi di loro sono stati candidati ugualmente sia nel centro-destra sia nel centro-sinistra. Lo ritiene corretto nei confronti dell'elettorato? Secondo lei servirebbero delle regole per avere delle candidature, chiamiamole, pulite? Io ho detto più di una volta che nelle liste che abbiamo fatto non c'è un solo indagato a parte il sottoscritto. Io sono indagato per aver fatto delle visite umanitarie al Presidente del Cagliari insieme all'editore dell'Unione Sarda e al mitico Gigi Riva. L'ho fatto con la totale onestà sapendo di portare delle persone che volevano esprimere della solidarietà umana al Presidente del Cagliari costretto agli arresti e ho detto più di una volta che non smetterò mai di fare le battaglie contro l'arrivo dei mafiosi in Sardegna, a Tempio, a Nukis, a Massama, a Cagliari o a Sassari e che se queste politiche di, tra virgolette, di intimidazione che mi sono state rivolte per dismettere la mia azione di condanna verso queste azioni, io non lo farò mai. Perché ritengo, così come ho detto più volte, che l'arrivo dei mafiosi in Sardegna è un pericolo per la società sarda. Perché qualcuno dice è incontaminata, proprio perché è incontaminata, non bisogna giocare col fuoco. Quando arriveranno 300 capi mafia in Sardegna, nelle carceri da Sardegna, per scelta di questa classe politica che è assolutamente prona rispetto a queste scelte, io mi permetto di dire che la morale è quella che io ho scelto insieme agli amici per fare le liste, cioè nessuno indagato dal punto di vista della morale e della politica. E dall'altra però penso che la moralità sia anche quella di rispondere alle esigenze della propria terra. Quando uno si candida a realizzare tot posti di lavoro e non ne realizza nemmeno uno, anzi ne fa perdere 80 mila, quello è immoralità. Quando si utilizza la ragione per spendere denari, per fagocitare interessi diversi da quelli del sistema pubblico, io penso che sia assolutamente immorale. Quando un'opera pubblica inizia per costare, cito la sassa di Olbia, 600 milioni di euro e poi nel giro di tre anni diventa 2 miliardo e 2, forse qualche dubbio sulla moralità, sulla gestione, sull'etica del governo dovremmo opporcelo. Senta, lei è qui a Olbia, una città stata recentemente colpita da un disastro dell'alluvione, questo fatto ha portato alla luce l'annoso problema dell'edificazione senza freni, senza regole, senza il rispetto di certe situazioni ambientali. Quindi si è messa a rischio la sicurezza della gente, non solo a Olbia naturalmente. Come concilia lei la necessità di far ripartire comunque il volano dell'edilizia, il comparto edile con la tutela di zone particolarmente delicate del territorio? Che cosa è stato sbagliato secondo lei in questi anni e che cosa non si deve più fare? Intanto è stato sbagliato il parametro di valutazione. Da parte di tutti le ideologie si sono contrapposte in termini di quantità di metri cubi. Chi ne voleva milioni, chi ne voleva milioni e mezzo. In realtà il tema fondamentale non è quello della quantità, è della qualità dell'investimento. Cioè posizionare un edificio, che sia un albergo, che sia una residenza, in un determinato punto dell'ambiente, significa valutare l'impatto sull'ambiente, non in termini di quantità. Perché se io realizzo nella costa di Olbia un grattacielo a due chilometri, ho impattato sulla costa e l'ho devastata. Se invece riesco a realizzare quell'insediamento, cito per tutti il Cala di Volpe, in termini di posizionamento paesaggistico tali per cui quell'episodio architettonico urbanistico è capace di valorizzare la costa stessa, io penso che con quel tipo di approccio, che ormai non è più discrezionale, ma è tecnico-scientifico, la valutazione di patto ambientale e paesaggistica non è più un aspetto discrezionale, ma viene misurata, ci sono parametri di misurazione, di calcolo di quanto quell'episodio può turbare o meno l'ambiente. E quindi va introdotto non il termine quantità, ma il termine qualità. E aggiungo che io per quanto mi riguarda penso che la pianificazione rispetto all'assetto idrogeologico della Sardegna debba essere fatta con molta attenzione, non soltanto agli effetti, ma alle cause. Molto spesso tutte le opere che devono essere fatte di mitigazione del rapporto tra l'uomo e l'ambiente sono venute in secondo piano, perché purtroppo la classe politica è convinta che queste non gerino riscontri elettorali. In realtà il governo del territorio, io lo voglio sintetizzare, si sta bene in pianura, si si cura bene la montagna. Tutto questo invece in Sardegna non è una visione che la classe politica ha. Io penso che curare la montagna significhi sostanzialmente dare delle risposte compiute a chi sta in pianura. Se tutto questo non c'è legame, se c'è uno sviluppo non armonico dell'ambiente, dove l'uomo è protagonista, rispettando l'ambiente, ma rispettando anche l'uomo, credo che questo sia un passaggio che noi dobbiamo mettere nero su bianco. E io ho messo come punto cardine la riqualificazione della Sardegna. Il primo punto, io non entrerò nella diatriba piano paesaggistico sì, piano paesaggistico no. So che è una scelta violenta quella di Soru, così come quella di Capellacci, perché in quei due strumenti, tutti e due che hanno bloccato la Sardegna, prima quello di Soru e quello di Capellacci, che non è mai entrato in vigore, che mai entrerà in vigore, dicono sostanzialmente che tutti i vincoli possono essere superati se due amici si siedono intorno a un tavolo. Se il Presidente della Regione ha un imprenditore amico che ritiene di dover accontentare, è prevista per solo l'intesa e per Capellacci l'accordo. Cioè prevedono di cancellare i vincoli, quella non è pianificazione urbanistica, e quattro amici al tavolo che sostanzialmente pensano ad altro. Io penso per esempio che occorra utilizzare tutte le volumetrie esistenti riqualificandole. Il mio primo obiettivo è quello di utilizzare quelle volumetrie per fare azioni di sviluppo seguendo l'economia dinamica e non l'economia statica. Il piano casa lo manterrebbe? Riqualificazione, ristrutturazione? Io farei un piano casa, così come ho detto, in maniera molto più organica, pensando intanto alla riqualificazione energetico-ambientale. Cosa che è venuta a meno? Io imporrei da questo punto di vista il recupero di quartieri interi quel piano casa, perché so che ci sono quartieri che sono in classe G, o per essere più chiari, che spendono per ogni famiglia 2.500 euro all'anno per riscaldare o per raffreddare il proprio edificio, quando invece un complesso organico, un quartiere intero, potrebbe essere sottoposto a miglioramento, anche volumetrico se necessario, anche con la banca dei volumi da mettere a disposizione dell'imprenditore che fa l'investimento, per creare le condizioni perché quelle case per esempio non inquinino. Il 40% dell'inquinamento atmosferico deriva per esempio dal patrimonio immobiliare. Abbiamo consumo di energia, abbiamo inquinamento ambientale e abbiamo un dispendio di risorse economiche delle famiglie. Io farei, come messo nel programma di governo, farò un piano di riqualificazione energetico ambientale del patrimonio immobiliare, in questo caso anche con valorizzazioni volumetriche che possono essere utili al miglioramento dell'edificio, alla migliore funzionalità dello stesso. Se un agriturismo è stato concepito con 20 posti letto e c'è la dinamica economica che mi consente di dire che forse 20 posti letto sono pochi per far arrivare un pullman che ha 56 posti, probabilmente è giusto consentire a quell'episodio urbanistico che ha già un consumo del suolo acclarato di essere ampliato, di poter far diventare quell'azienda che rischia di diventare fallimentare perché non ha le dimensioni economiche e pregio sul mercato, di renderla fruibile sul piano economico con 50-60 posti letto. In un minuto, se fosse lei il Presidente della Regione, che cosa direbbe ai nuovi padroni della Costa Smeralda del Qatar rispetto a quelli che sono i loro progetti di sviluppo? Intanto progetti di sviluppo sinceramente non ne ho ancora visto. Io imporrei una regola che tutto questo grande patrimonio, questa grande attrazione della Costa Smeralda non può essere funzionale due mesi all'anno. Non può essere la gallura usa e getta come molti l'hanno concepita, anche la classe politica gallurese, alcuni soggetti pensano che la gallura possa essere venduta in cambio di qualche prebenda, di qualche incarico di qua e di là. Io penso che la gallura debba funzionare sul piano turistico 365 giorni all'anno, questa è la nostra missione, quindi vuol dire che gli alberi che esistono devono essere dotati di centri di benessere, di centri di congressi, di centri sportivi, cioè devono essere moltiplicati i servizi così come fu il primo progetto della GACAN. La GACAN aveva un secondo step che era quello di incrementare la stagionalità. Oggi tutto questo versante si è perso, bisogna ripercorrere quella strada per consentire la gallura di funzionare non per due mesi all'anno ma per funzionare 365 giorni all'anno. Questo è il progetto che io metterò in campo da Presidente imponendo a tutti coloro che si proporranno come interlocutori istituzionali dal punto di vista dello sviluppo della Costa Smeralda come elemento cardine. Noi sappiamo che in Sardegna bisogna qualificare e ampliare la stagione. Tutto questo non può avvenire in termini volumetrici, può avvenire in termini di riqualificazione di servizi che sono indispensabili. Senta, siete in quattro e questa è l'ultima domanda, al di là degli schieramenti canonici di centrodestra e centrosinistra. Con chi si alleerebbe? Con nessuno. Non credo che ci siano condizioni politiche per condividere la strategia politica che noi abbiamo messo in campo. Cappellacci e Verdini sono l'enclave dei poteri forti in Sardegna, Soru e Piglier rappresentano i poteri forti dell'enclave del centrosinistra, la Murgia anch'essa rappresenta dei poteri perché non è spiegabile l'esposizione mediatica che ha da tutti i livelli. Credo che ci siano poteri che sostengono anche lei. Noi siamo gli unici liberi, scevili da condizionamenti, liberi di difendere la Sardegna senza avere possibilità di essere condizionati o ricattati. Gli unici che hanno la bandiera della Sardegna alta, a differenza di quei pseudo sardisti che si sono messi nelle mani, venduti al centrosinistra o centrodestra per difendere non l'indipendenza o la Sardegna, ma per difendere i propri poteri. Grazie Mauro Pili, candidato alla presidenza con la coalizione del popolo sardo, in bocca al lupo naturalmente. Grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima speciale analisi, speciale elezioni. Buona serata. Grazie a tutti.